Dove sei, Jordi? Ah? Sono andato. Sono allergico agli spirri. E anche a Maurice. Tranquillo, ti ho lasciato un regalo. L'amico di un mio amico vende auto usate. Nel garage di fronte ti aspetta una vera bellezza. Prendila se ti piace. Fa come ti pare. Io vado. Ehi, c'è un fottio di auto della polizia intorno allo stadio. Abbiamo già guardato in galleria. Dove cazzo è andato? Occhio. Qualcuno controlla le strade secondarie? Non c'è traccia del sospetto. Lo cerchiamo ancora. Il sospetto è di nuovo nostro. Centrale, ci serve il supporto aereo. Lo fermerò io. È stata inviata una volante per cercare il sospetto. Forse ha cambiato macchina. Centrale, qualche volante vede il sospetto. Centrale, se n'è andato. Stiamo tornando indietro. Mi serviva proprio. Finalmente l'assassino è nelle mie mani. Devo solo riuscire a entrare. Ma come? Ho torchiato morisse. Ma con lui non funziona. Non funziona. Non funziona. Non funziona. Devo entrargli nella testa. E' divorato dal senso di colpa. Gli darò un paio di giorni. Si ammorbidi l'accetto. Ma guardatelo. Ecco di cosa fai. Muoversi. Aiutatemi. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.